Siamo qua a Palermo di fronte al monumento dedicato ai caduti delle guerre imperialiste della dittatura italiana. Accanto al Teatro Massimo è dove c'è un garage che ha trasformato il deposito degli strumenti e delle scenografie del teatro in una piazza di parcheggio per le macchine. Questo è il monumento ai caduti accanto alla caserma dei Vigili del Fuoco. Dello stesso periodo. Questo monumento è quasi abbandonato. Possiamo vedere le lapidi che sono ancora intestate a Mussolini, con le frasi di Mussolini, mentre all'interno si scorge un dipinto. La lapide dice, regnando Vittorio Emanuele III del Ditalia, imperatore del Diopio, sacrificio dei combattenti e le legioni generali e via discorrendo sotto una statua con un busto con la parola resistere, 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 resistere. Il monumento ha tre ingressi. Ogni ingresso è dedicato alla città è dedicato alla città. Siamo proprio a pochi passi dal teatro massimo. Quella di fronte è la via Maqueta, piano e cento di valere.